Ciao ragazzi, ben rivisti, qualcuno di voi siamo già incontrati, siete venuti già a trovarci dopo il nostro primo articolo. Qui siamo nella zona industriale di Mociano Sant'Angelo, presso la struttura Palamurkangas che è una struttura che ospita gli sport da spiaggia non soltanto nei tre mesi invernali ma in tutto l'arco dell'anno. La cosa importante che ci teniamo a dirvi è che noi qui all'interno della struttura abbiamo del personale qualificato che oltre a farvi divertire e farvi avvicinare a questo sport che li avete conosciuti tutti quanti durante le Olimpiadi di Rio grazie agli ottimi risultati della nostra nazionale e quindi farvi avvicinare a questo sport che da fuori sembra difficilissimo ma con l'aiuto delle persone giuste tipo il maestro Francesco potrebbe essere aperto anche al più amatoriale di voi. Il maestro vi spiega più o meno come si svolge la nostra lezione e la cura che abbiamo nel trattare i singoli casi. Le varie lezioni sono aperte a qualsiasi tipo di atleta sia un amatoriale che un agonista e abbiamo tutto praticamente strutturato affinché si possa lavorare tecnicamente in maniera adeguata per raggiungere qualsiasi tipo di scopo, sia che sia uno scopo ludico ma anche che sia uno scopo agonistico per raggiungere qualsiasi tipo di risultato. Infatti abbiamo atleti che poi riescono a militare anche nella nazionale perché c'è un lavoro qualificato molto attento nei pari particolari e oltre a essere la nostra passione siamo sempre qui per garantire tutto questo. Ci farebbe piacere quindi potervi far vedere come lavoriamo, come lavora soprattutto la struttura nelle sue diverse sfumature dal lavoro quindi di ogni singolo atleta anche al lavoro che facciamo sugli amatoriali per far conoscere meglio la struttura e far conoscere soprattutto meglio il nostro lavoro. Quindi vi aspettiamo, non vediamo l'ora di potervi far vedere come siamo strutturati e come gestiamo tutto il lavoro tecnico e tattico all'interno praticamente della struttura. Ciao ragazzi, vi aspettiamo. Ciao, alla prossima. Siamo qui a Mociano per voi. Siamo qui.